Vosca accademia culinarna, insomma che ora non sono robi cervone, papricchi, tunci, cromare, noi facciamo patelnia, oliva z'olive, ciosnick, ostra paprika e anchoa. Mentre ciò scroiamo nasce cervona paprika, namau e cavalli. Dodajeme da nasce patelnia un drobino voda, zamecame e gotujeme dopo chi benge mienca. Nel momento blendujeme e imame super sauce. Solime voda, vogliamo macarone, patelnia, oliva z'olive, cebulecchka, ostra paprika, ciarne olivki e ocevisce nasce tuncik, rio mare. Miesciamo troccecche e dodajeme nasce super sauce srobione vcecchne. Miesciamo, miesciu, miesciu, miesciu e, co vienze, dodajeme nasce macarone al dente ocevisce. Eventualne o drobina voda, miesciu, miesciu, miesciu e imame super fantastici macarone. Decorujeme troche scipiorek imame piscine danie nalato stuncicchiem. Polezzam. Ciao!